Sanità in Svizzera, uno degli argomenti più gettonati anche per noi in consulenza, ne parliamo in questo video. Oggi parliamo di sanità in Svizzera e specificatamente alcune delle domande che ci vengono poste più spesso in consulenza, chiaramente qui rispondiamo in maniera generica, in consulenza poi possiamo approfondire rispetto alla vostra situazione specifica, sia sullo stato di salute con tutta la privacy del caso e sia sulle vostre esigenze in termini di domande supplementari rispetto a quello che sono già i contenuti che diffondiamo qui e appunto negli altri video. Una considerazione prima di iniziare con le domande e le nostre risposte, le informazioni ci sono online, anche sui canali ufficiali, ma spesso sono un po' frammentate, possono essere interpretate, quindi bisogna sempre poi andare a vedere nella propria situazione specifica come riuscire a organizzarsi nel modo corretto, quindi questo è molto importante, quindi giusto informarsi da soli, come sempre, il fai da te, soprattutto per chi è particolarmente sveglio, è sempre una via, chiaramente un aiuto in più, e il nostro mestiere è proprio questo, può semplificarvi la vita e aiutarvi a organizzarvi nel modo migliore. Detto ciò, iniziamo subito con la prima domanda. La sanità è gratuita come in Italia? Allora, una domanda che spesso ci viene posta, non ce la siamo inventate noi, allora, la sanità in Italia non è gratuita, vi confidiamo questo piccolo segreto, non è nulla, non esiste niente di gratis, quindi tutto viene pagato, chiaramente la sanità in Italia, almeno quella pubblica, è pagata dalle tasse, dalle imprendievi fiscali importanti, come sapete, abitando in Italia, e questo ovviamente comporta poi appunto di avere delle prestazioni. E in ogni caso, a meno che di trattamenti d'urgenza, c'è comunque il ticket, per fare le cose rapidamente bisogna magari pagarsi le visite private o un'assicurazione privata che vada a coprirle, quindi capite bene che di gratuito c'è molto poco, e in Svizzera ovviamente è un sistema molto diverso in cui si vanno a pagare delle assicurazioni obbligatorie e facoltative che vanno a coprire poi le proprie prestazioni. Non è un sistema completamente, diciamo, individuale, nel senso che, come in altri paesi, come può essere per esempio gli Emirati, in cui non c'è neanche un obbligo di assicurazione, e poi sono cavoli di ognuno pagarsi le prestazioni in un momento in cui servono, in un momento in cui non ha l'assicurazione, quindi le assicurazioni non sono totalmente individuali, nel senso che il premio che si va a pagare non è basato sul proprio stato di salute, quello dell'assicurazione obbligatoria, quindi quello delle casse malati, ma è basato su un rischio collettivo, quindi è un sistema, diciamo, misto, c'è un obbligo di pagare, ma un premio che è basato su un rischio collettivo e non solo personale, comunque magari questo lo approfondiamo meglio dopo, su un'altra domanda. Quella facoltativa invece è su un rischio personale, quindi c'è un premio che ovviamente è basato anche sul proprio stato di salute, sulle proprie esigenze, eccetera. Quindi la sanità non è gratuita per rispondere in maniera definitiva, né in Italia né in Svizzera, in Italia, diciamo, il prezzo è affogato nella fiscalità, più tutto quello che è appunto i costi derivanti dal doversi affidare comunque al privato, in Svizzera invece c'è un sistema di casse malati, quindi assicurazioni obbligatorie e di assicurazioni focalitative complementari. Andiamo alla prossima domanda. Posso andare dal medico di famiglia quando voglio? Allora, in Svizzera ci sono diversi sistemi di casse malati, sulla base anche del quale si va a pagare un premio diverso. Esiste il sistema medico di famiglia, che di solito è quello che anche noi consigliamo quando ci viene chiesto, poi chiaramente ognuno può decidere per conto suo, il sistema medico di famiglia significa che nel momento in cui si ha un problema di salute il primo approccio che bisogna avere, a meno che non sia appunto un'emergenza per andare al pronto soccorso, è appunto un medico di famiglia che poi va a valutare la situazione e eventualmente direzionare in farmacia da uno specialista all'ospedale per degli esami, eccetera. Questa domanda, posso andare dal medico di famiglia quando voglio? Tendenzialmente sì, chiaramente se c'è un problema di salute. Tutto quello che è prevenzione, ovviamente lo può anche gestire il medico di famiglia, ma è fuori dal sistema delle casse malate obbligatorie, quindi fuori dalle prestazioni della cassa malate obbligatoria, ma rientra invece all'interno delle prestazioni della complementare salute, appunto di cui parliamo poi in un'altra domanda. Quindi quando voglio sì, a patto che appunto ci sia un problema di salute da affrontare insieme al medico. Chiaramente il medico di famiglia si paga, nel senso rientra all'interno di quello che sono le prestazioni coperte, la cassa malate, nel momento in cui è una prestazione per malattia, e viene dedotto da quello che è la franchigia. Ma dentro della franchigia ne vediamo appunto adesso nella prossima domanda, quindi vediamo un attimo qualche esempio. Quindi la prossima domanda è proprio sulla franchigia. Come faccio a scegliere la franchigia giusta per me? Ecco, il sistema di franchigie sulle casse malati è inizialmente complesso per chi viene da fuori, però è molto simile a quello che è un sistema di franchigie assicurativo per qualsiasi assicurazione, per esempio quello della macchina in Italia. Quindi se si sceglie una franchigia di X, chiaramente tutto quello che si ha come prestazioni assicurate, e quindi all'interno di quello che sono le prestazioni coperte della cassa malati, quindi parlando appunto per esempio di malattia e non di prestazione, tutto quello appunto che sono le prestazioni si pagano fino al raggiungimento della franchigia. Quindi facciamo l'ipotesi che si abbia franchigia 300, che è quella più bassa per gli adulti, significa che se io ho dal medico di famiglia a gennaio e la visita costa 100 franchi, il medico di famiglia fattura 100 franchi alla cassa malati, la cassa malati verifica che io ho franchigia 300, che non ho ancora usato la franchigia, comunque non ho avuto ancora prestazioni in quell'anno, e mi rifattura i 100, fino al raggiungimento dei 300 nel corso dell'anno. Cosa succede dopo il raggiungimento della franchigia, che sia 300 o superiore? C'è ancora poi un 10% di scoperto fino a 7000, quindi altri 700 massimi che si vanno a pagare. Però un 10%, quindi facciamo l'ipotesi, vado tre volte dal medico di famiglia, ho raggiunto la franchigia di 300, cosa succede? Alla quarta volta di quell'anno. Alla quarta volta di quell'anno, sempre 100 franchi costa la visita, ma in quel caso io la pagherò solo 10 alla cassa malati, perché il 90% diventa poi in carico della cassa malati. Quindi è un sistema un po' complesso, ma chiaramente poi in consulenza, sulla base della situazione di ognuno, si possono andare a fare degli esempi più specifici. Domanda successiva, se non è obbligatorio perché devo pagare di più per un'assicurazione complementare? Lo abbiamo già fatto qualche cegno nelle risposte precedenti. Il sistema di cassa malati è appunto un sistema in cui bisogna pagare obbligatoriamente un premio per essere affiliati a una delle casse malati riconosciute in Svizzera, quindi non valgono assicurazioni internazionali, X, Y, Z, no, deve essere un'assicurazione, una cassa malati riconosciuta in Svizzera. Con lì è un premio appunto che non è solo sul rischio personale, ma va a pagare anche, diciamo, le prestazioni collettive, quindi se anche uno, diciamo, non va mai dal medico, non l'ha bisogno, comunque quel premio ce lo ha, ed è un premio che ha diversi fattori sulla base dei quali viene appunto calcolato il totale, tra cui anche, per esempio, il cantone. Il Ticino è uno dei cantoni più cari, perché ha tanti anziani, quindi le spese ospedaliere sono più elevate, quindi comunque si va a pagare di più, anche di premio, anche se non si va mai dal medico. Cosa serve questa assicurazione complementare, che è facoltativa, quindi si può appunto non fare? Serve per andare a coprire alcune lacune della cassa malati, insomma, la cassa malati non copre totalmente i costi del trasporto, l'emergenza all'estero hanno delle limitazioni, la prevenzione non è coperta dalla cassa malati, quindi se uno vuole fare un check-up, un controllo NEI, un qualsiasi cosa per proprio scrupolo non è coperto dalla cassa malati, quindi non rientra neanche all'interno di quello del sistema di franchigia. Quindi bisogna chiaramente andare a vedere nel dettaglio della propria situazione la convenienza nell'andare a sottoscrivere un'assicurazione complementare, ma nel 99% dei casi è qualcosa che si consiglia sempre proprio perché si va a colmare alcune lacune importanti che comunque la cassa malati ha. Quindi considerate che il rapporto di prezzo fra il premio della cassa malati obbligatoria e una situazione complementare diciamo media è di 1,7, 1,8, può essere anche 1,5, poi dipende dal piano, quindi è molto meno costosa la situazione complementare, soprattutto per chi è diciamo giovane e quindi vale sempre la pena di prenderla in considerazione. Domanda successiva, Quanto costa partorire in Svizzera? Allora, chiaramente partorire in Svizzera non è gratis, come non è gratis in Italia, anche se poi i costi non si vedono, ma il parto e tutto quello che è connesso alla gravidanza, diciamo, dal momento in cui si sa di essere in gravidanza fino a 6-8 settimane dopo il parto, tutti i costi connessi sono coperti diciamo dalla cassa malati fuori franchigia, quindi non c'è il sistema di franchigia e non si va, diciamo, a dover pagare delle fatture, le prestazioni sono comunque tutte coperte dalla collettività, diciamo, dalla collettività degli assicurati e dei residenti in Svizzera che appunto sono assicurati alle cassa malati. Quindi questo può avere delle limitazioni a livello di ecografie, però è molto poi sulla base di quello che il ginecologo decide, nel senso che se il ginecologo basta che vada a segnalare che c'è un rischio e quindi deve fare una ecografia in più, chiaramente quell'ecografia che poi passa anche sempre all'interno delle prestazioni. Come tutto quello che è il parto, che è diciamo la cosa buona e secondo noi molto informativa è che si riceve comunque la fattura del parto a casa poi da pagare zero, ma si vede comunque quello che è costato, non come in Italia che sembra gratuito perché semplicemente non si vedono i costi connessi alla prestazione. Qui si vede che il parto è costato magari 10, 15, 20 mila franchi, dipende poi chiaramente come è andato, e da pagare zero, quindi qualcuno quei soldi l'ha pagati perché l'allevatrice, il medico, il ginecologo, i controlli, eccetera, sono stati fatti, quindi dei costi sono stati sostenuti, ma ovviamente non sono in carico all'assicurato in quel caso. Quindi, per partorio in Svizzera, chiaramente stiamo parlando di persone residenti, una persona che viene a partorio in Svizzera da non residenti, tutti i costi, diciamo, sono coperti dalla cassa malati e non c'è nulla da pagare appunto in quel periodo che abbiamo detto prima della gravidanza e del postparto. In questo, fra l'altro, ci sono anche delle prestazioni da parte dell'allevatrice, ci sono coperti dei corsi anche pre-parto, quindi ci sono anche delle cose che possono essere fatte sia dalla cassa malati base sia anche dalle complementari come prestazioni ulteriori. Quindi, comunque, a livello di parto c'è una buona copertura e, insomma, è qualcosa che viene fatto appunto per incentivare anche le persone che vogliono avere dei figli a farlo senza doversi preoccupare troppo dei costi connessi, almeno nel periodo della gravidanza. Andiamo a vedere l'ultima domanda molto interessante che è quella non più relativa tanto alla cassa malati ma relativa, diciamo, alla situazione lavorativa in generale, cioè se non posso lavorare perché mi sono ammalato posso essere licenziato? Ora, questa è una cosa abbastanza particolare e complessa. Proviamo a fare una risposta relativamente breve. Allora, dipende. La risposta, diciamo, breve è dipende. Poi bisogna andare a vedere nella situazione specifica come si è coperti. Questo non è qualcosa che va a, diciamo, influenzare quello che è la propria scelta della cassa malati perché la cassa malati va a coprire le cure mediche. non va a coprire quello che sono delle indennità di guadagno, di perdita di guadagno nel caso in cui si venga appunto a essere purtroppo incapaci di lavorare per malattia. Quindi la cassa malati si sceglie per avere delle cure mediche e essere coperti in un certo modo. Quello che invece è la copertura per lo stipendio e per il proprio reddito in caso che non si possa lavorare e nel caso in cui si venga licenziati, eccetera, questo viene viene delegato alle imprese e alla persona alla persona singola. Quindi ogni azienda può decidere ed è qualche cosa che lo fa sia nell'interesse dei propri dipendenti ma anche nel proprio stesso interesse di avere un'assicurazione malattia appunto che va a coprire la parte dello stipendio il solito l'80% dello stipendio dei propri dipendenti nel caso in cui non possano lavorare. Questo è qualcosa di importante da avere la maggior parte delle aziende è qualcosa che hanno una copertura molto buona in merito se capita appunto aziende molto piccole che questa copertura per un modo o per l'altro non la vadano ad avere ovviamente poi lì subenta l'anzianità nel senso che c'è un periodo di tempo entro il quale il datore di lavoro deve versare anche se si è a casa per malattia il salario e poi dopodiché invece non c'è più questo obbligo quindi bisogna comunque bene informarsi nel momento in cui voi avete un lavoro in Svizzera che copertura avete in merito cioè sono dei piani diciamo di base dei piani che vanno oltre quello che è appunto il piano di base per la malattia chiaramente tutto questo può essere diciamo aiutato e incrementato con dei piani individuali quindi se uno sa che magari non è coperto adeguatamente dal datore di lavoro può farsi delle assicurazioni individuali sia nel breve che nel lungo termine per avere una rendita nel caso in cui non possa lavorare per malattia quindi questo è qualcosa che consigliamo sempre di vedere nel dettaglio perché purtroppo sono cose che possono succedere a tutti e quindi è giusto sapere un po' come funziona e premunirsi secondo il proprio rischio individuale rispetto appunto alla situazione specifica detto ciò speriamo di aver risposto un po' alle domande principali che ci vengono poste in merito personalità in Svizzera ci possono essere veramente un'altra decina o di più di domande che si possono andare a fare se avete qualcosa nei commenti a cui possiamo rispondere volentieri se no come sempre vi invitiamo a chiedere la consulenza preliminare anche per chi magari è già in Svizzera ha bisogno di un aiuto può scriverci a info chiocciola il mio trumento svizzera punto com e lo direzioniamo presso i professionisti del caso per avere un aiuto in merito quindi come sempre ringraziamo per la visione e ci vediamo nel prossimo video e ci vediamo